L'87 calcistico è cominciato a Firenze con un grande spettacolo, stadio esaurito, record di incasso battuto con oltre 900 milioni, da una parte il grande Maradona, dall'altra il simbolo della Firenze calcistica Giancarlo Antonioni tornato a tempo pieno a guidare la sua squadra. Ne è venuta fuori una gara combattuta, senza pause, con molte emozioni e tanti episodi. Dopo appena 6 minuti di gioco, Viola in vantaggio, palla da destra per la testa di Antonioni e Battistini, raccoglie Diaz e bel diagonale, palo e rete, imprendibile per Garella. Una doccia fredda per il Napoli, Maradona risponde dopo un paio di minuti su punizione, respinge Landucci, uno dei protagonisti oggi che si ripeterà al sedicesimo su tiro di Romano. Al venticinquesimo Diaz va a terra, reclama il rigore, Lanese decreta la punizione, una palla d'oro per Antonioni, Granbocca e palla in rete, Garella resta in pietrito, 2 a 0 per i Viola. Da questo momento comincia l'assedio di Bianco Azzurri alla rete gigliata. Al venteseiesimo Maradona, ben francabollato da contratto, impegna Landucci, poi ancora l'argentino al trentaseiesimo. Intanto Bianchi sostituisce Sola con Carnevale. Alla quarantesimo è Renica ad impegnare il portiere. Nella ripresa stessa musica, al quinto la zampata al volo di Maradona riaccende le speranze della capolista. 2 a 1, si continua a giocare a una porta, la Fiorentina è chiusa nella sua area. Al venticinquesimo Bagni entra in rotta di collisione e compine. Cade a terra, l'arbitro lo ammonisce, un episodio che l'Azzurro non digerisce. Bianchi sostituisce Ferrario con Volpecina, poi al trentunesimo il Napoli va in gol, ma l'arbitro aveva già fischiato per fallo ai danni di Galbiati. Giordano prende una traversa. Bersellini manda in campo Monelli che segna subito un gol da metà campo con Garella fuori posto, un gol da incorniciare. Finisce 3 a 1 per i Viola, ha vinto il cuore, sentiamo uno dei protagonisti Giancarlo Antognoni. Antognoni ha fatto la sua partita, è stato determinante per il 2 a 0, quindi sono molto contento, più che per la prestazione personale, sono contento per la vittoria della Fiorentina. Per una battuta veloce? Sì, grazie. Bene, si potrebbe dire che Maradona oggi non è bastato al Napoli, anche se ce l'ha messa tutta, no? Un gol alla grande e altri gol magari che non sono venuti. No, credo che il Napoli ha sbagliato nel primo tempo, però nel secondo tempo meritava il pari. Non l'abbiamo potuto, è pazienza. Credo che il campionato comincia per noi adesso, a parte che credo che oggi abbiamo capito che stiamo giocando contro di tutti. Contro? Contra tutti quanti. Ah, appunto, ma per vincere bisogna giocare contro tutti, no? Sì, no, non si gioca solo con l'Inter, si gioca contro tutti quanti, perché oggi abbiamo capito dentro del campo che noi stavamo giocando solo contro la Fiorentina. Vuol capire, capisci? Sì. Ma la porta è piccola o grande da quella posizione? Mi sembra abbastanza piccola. Diciamo che ho calciato molto bene, mi è andata bene, ecco. Però io penso che una soluzione del genere possa capitare veramente una volta nella vita, ecco. È una sconfitta che può far riflettere in qualche modo, per qualche cosa? Ah sì, certo. Abbiamo commesso tanti, parecchi errori che ci sono costati la partita. Altronde nel calcio, quando si sbaglia, si paga. Grazie. Grazie. Grazie.